La nostra collaborazione, nel senso che come gruppo fondatore avevamo proposto a Viali di entrare in questa cooperativa sociale assumendo un po' il ruolo di promotore e ho spiegato un po' qual era il progetto, a un certo punto dopo la riunione mi sono sentito di dire Gianluca non sentirti obbligato, non sentirti, cioè fai tutte quelle cose che ritieni opportuno e la cosa che mi ha sorpreso fino a un certo punto perché conoscendolo dice no, nessun obbligo, è un piacere perché io mi ritengo una persona molto fortunata per quello che faccio, come lo sto facendo, per la situazione in cui vivo e quindi però dice nella vita bisogna sempre stare coi piedi molto a terra e pensare anche ad avere uno spazio per chi invece questa fortuna non ce l'ha, per chi ha qualche problema in più rispetto alla media e direi che anche le azioni che poi sono susseguite a questo incontro di fondazione hanno confermato proprio questa sua disponibilità a tutti i livelli insomma per cui direi che è un ricordo bellissimo e ci tenevo a sottolinearlo, non l'ho mai detto però proprio questa risposta che proveniva veramente da una disponibilità, da una sincerità incredibile ci aveva proprio spronato ad andare avanti sotto questo aspetto cosa che poi è stata, tutte le realizzazioni fatte sono partite da lì